è stato affermato che le conseguenze delle incredibili memorie del principe ferri risuonano ancora all'interno delle mura del palazzo re carlo è ancora molto arrabbiato con il principe ferri per aver manifestato le sue difficoltà in pubblico afferma un insider del palazzo ciò avviene più di nove mesi dopo che il duca di sussex ha pubblicato il suo libro di memorie sper che ha sollevato il coperchio sulla vita reale come mai prima d'ora il libro carico di notizie bomba di carri che ritraeva suo fratello e la moglie di suo padre in una luce particolarmente negativa scatenò una frenesia su entrambe le sponde dell'atlantico che mise la monarchia in una situazione difficile ora in un'intervista esclusiva con daily express us tom queen autore di gilded youth an intimate history of growing up in the royal family suggerisce che la musica d'atmosfera all'interno del palazzo non è cambiata molto queen ha condiviso le conversazioni private che ha avuto con addetti ai lavori del palazzo le conversazioni a porte chiuse suggeriscono che il re e gli altri membri chiave della famiglia nutrono ancora sentimenti crudi nei confronti di sper ho parlato con le persone che lavoravano per megan e ferry quando erano in inghilterra e ho anche intervistato persone che lavoravano per william e kate ha detto queen a express us e dicono che in privato c'è molta più rabbia che in pubblico si dice che charles in particolare sia davvero arrabbiato per questo ha aggiunto queen gli addetti ai lavori hanno detto l'autore reale che il re si è offeso con l'intera idea che queste difficoltà dovrebbero essere esposte in pubblico queen sembra solidale con la difficile situazione di charles aggiungendo che ferry si lamenta sempre del modo in cui è stato trattato nel suo libro di memorie ferry fece anche alcune osservazioni puntuali sulla moglie di suo padre che sicuramente avrebbe avuto le piume arruffate il duca affermò che la sua matrigna la regina camilla rappresentava un pericolo a causa della necessità di riabilitare la sua immagine dopo essere stata definita la terza persona nel matrimonio della principessa diana con carlo grazie a tutti Grazie a tutti.